Ciao a tutti, sono Giorgia Festi, ho 19 anni, vivo in provincia di Torino e frequento il secondo anno del Dipartimento di Modi e Tessile dell'OIAD di Torino. Ho deciso di partecipare al contesto del design del gioiello per poter creare l'elemento essenziale che potesse essere utile a completare il look della donna.